Una diciottenne stava guidando visibilmente ubriaca il piano giorno quando avrebbe centrato alcune auto parcheggiate al lato della strada. Per tale motivo la polizia di Guanajuato in Messico l'aveva fermata per accertamenti. Nel video girato dagli stessi accidenti si vede la fanciulla di nome Lorena Daniele Aguirre vestita in modo molto sexy e piuttosto brilla la quale fatica e scegliere fatica molto a fatica a spiegarsi con i poliziotti. Dopo aver controllato la patente e la carta di circolazione gli accidenti così hanno deciso di far scattare il verbale e a questo punto la fanciulla ha provato a corromperli con 100 pesos più o poco più di 5 euro giustificandosi nel seguente modo. Vedere di più non solo questi, le gente ovviamente sono stati intransicenti, la ragazza così pensata dall'audio e ha provato assi l'ordine. Per questo motivo sarebbe intervenuto una vicente donna che la portò via insieme a un collega la ragazza come per l'appunto doveva fare. Insomma sono cose che capiano queste, non si devono verificare ma sembra quasi che sono all'ordine del giorno. Vi ringrazio per l'ascolto, e vi ringrazio per l'ascolto. Allora, insomma.